Digitalizzazione fa niente differenze dentro l'urban e i periferi. Il progetto mia ingedina è il business di Antone Evidenza. La digitalizzazione ha di una delle più influenze in tutta la nostra vita sociale, per quale è noi, come io ingedino, torsiamo i temi critici, perché la società sta imprendendo e dire in torno, da nuovi temi che stanno in scuola, da scuola in nostra ufficienza, da famiglie, da noi intorno con i genitori, con questi temi, se quale è una torsione più vasta che è possibile. La digitalizzazione è un digic di più in opzioni, non in una scuola. È insieme a un tema che Antone sviluppi vuole essere in donna corsa di tutto quello che era in una gada vera e real, se vuole la tecnica gli darà esattamente l'evo. È un'occhiazione di nuove modelli di vita. È un'occhiazione che si è ingeggiata in una città, è un'occhiazione che si è un'occhiazione completamente ma si è un'occhiazione di vivere in un'occhiazione. ma è un'occhiazione che si è un'occhiazione di vivere in un'occhiazione. La creazione dell'economia è solito, ci non sto più in da vento, io sia la mia visione lunga vista o della nostra visione lunga vista del mantenere del più plazzo di lavoro in questa regione.